Cutro-Reggio Emilia, ecco, questo è un rapporto ormai da tanto tempo e tu lo racconti in un libro. Sì, ho voluto raccontare questa storia per un'esperienza vissuta a Reggio Emilia, dove non ho trovato, diciamo, il riconoscimento adeguato per questi lavoratori. Io sono andato lì nel 2004, avevo studiato a Parma negli anni Ottanta, pensavo ci fosse un rapporto diverso tra reggiani e cutresi. Il momento in cui, facendo la mia attività sociale, vedevo delle vere forme di razzismo nei confronti di queste persone per il fenomeno della criminalità, confondendo i lavoratori con i criminali. Una cosa che mi ha veramente creato dall'inizio angoscia, poi rabbia, e quindi da lì ho deciso di fare una ricerca. Ho fatto oltre 200 interviste, quasi 8 anni di ricerca, di lavoro, ed ho ricostruito la storia. Non voglio difendere nessuno. Il mio libro è stato un po' criticato, dicendo che sminuisco i fatti di criminalità. Ho specificato alla casetta di Reggio che questo non è un libro sull'andrangata, è un libro sulla comunità cutresi. Ho voluto dare voce a quelle persone che hanno poco ascolto, che lavorano e che giorno per giorno cercano di sopravvivere. Oggi sono in grave difficoltà. Hanno bisogno di tutela e hanno bisogno di lavoro. Io sono dalla loro parte. Dobbiamo dire che chiaramente è aumentata questa forma di diffidenza nei confronti delle persone del Sud. È aumentata che può essere anche giustificata, però è chiaro che non si può generalizzare in questo modo senza riconoscere le persone. I fatti di criminalità sono chiari, ci sono delle accuse, ci sono dei magistrati che hanno fatto l'indagine. Proprio in questi giorni è stato assolto su un fatto su cui avevo preso una posizione. Sono stato molto criticato per questa cosa. Una lettera che Pasquale Brescia aveva scritto al sindaco ed io interpretavo in quella lettera uno sfogo di una persona che pensa di avere ragione. Alla fine, come dire, ho avuto ragione io. Il giudice ha assolto per questo fatto specifico questa persona.